Siamo a Sacramento, in California, nel pieno degli anni 70, quando i pantaloni a zampa di elefante la facevano da padrone. In una graziosa villetta bianca vive la famiglia Bradford. Tom e suoi otto figli. Titolo originale della serie è It Is Enough. Doveva essere una qualsiasi altra sitcom sulla famiglia americana, ma solo dopo quattro episodi Diane Hayland, l'attrice che interpretava la signora Bradford, viene a mancare improvvisamente. Gli autori sono stati costretti così a rivedere la storia, decretandone però anche il successo. Da quel momento, infatti, Mr. Tom divenne il primo padre single della TV, alle prese con tutti i problemi dei figli. Dopo poco arriva Abby, che riesce a conquistare presto il cuore di tutti, diventando la nuova signora Bradford. La serie finisce nel 1981, ma successivamente sono stati realizzati due film per la TV. Tra le guest star, Ralph Macchio, Don Johnson, Rosanna Arquette, Robbie Williams, Heather Walker ed Eric Stolls. Il ruolo di Tommy fece da trampolino a Willie Haynes, che recitò poi nel mitico Paradise. Non perdetevi questo classico della televisione anni 70, ogni domenica alle 21 dal 4 ottobre su Fox Retro. C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Sono le Charlie's Angels, una delle serie più famose prodotte da Aaron Spelling. Tre volti indimenticabili degli angeli, anche Farrah Fawcett, Kate Jackson e Jacqueline Smith, vere e proprie icone della femminilità anni 70. Charlie, ma ti senti male? È il mio coccige. Prego. Osso sacro, dolore ai lombi, fa un male cane. Ma è terribile, Charlie. È il travolgente peso degli anni che avanza? Il travolgente peso delle responsabilità, Angelo. Ma credo che basterà un buon trattamento e poi sarò in gamba come prima. Buona fortuna, Angeli. Erano delle detective che lavoravano per il misterioso Charlie. La serie è diventata un vero e proprio fenomeno degli anni 70, grazie al cast e quasi tutto al femminile, ma anche ai costumi succinti delle tre girls, che presentavano una donna libera di mettersi in mostra. Dal telefilm sono poi nate due versioni cinematografiche, Charlie's Angels e Charlie's Angels Kick and Mind. Passiamo agli anni 80 e dalla West Coast andiamo in Florida. Da Sonic Rock e Terrico Tals, i due agenti sottocombelliti da protagonisti di Mariene Weiss. Con questa serie il regista Michael Mann ha innovato il format. Mariene Weiss è stato il primo telefilm a sfruttare tecniche cinematografiche, come la fotografia, le luci, il montaggio, ma anche la musica. Brani pop e rock di artisti famosi sono diventati ingredienti importanti per il successo. La serie è ricevuto tra i Golden Globe due Emmy e viene considerato il serial che è meglio di ogni altro ha fotografato gli anni 80. Tra le guest star, personaggi come James Brown, Bruce Willis, Julia Roberts, Chris Rock, Liam Neeson, Benissimo del Toro e Frank Zappa. A proposito, la colonna sonora divenne un modello per la musica degli anni 80 e uscì anche un album con tutte le musiche del telefilm che rimase in classifica per 12 settimane. Miami Vibe torna su Fox Retro ogni venerdì alle 21. L'edonismo degli anni 80 si rafforza ancora di più negli anni 90, con i fisici scolpiti e svestiti di Baywatch. La serie, ideata da un vero guarda spiaggia, è ispirata a Los Angeles County Love Guards. Esportata in 140 paesi e tradotta in 32 lingue, si può dire che il suo successo sia stato veramente planetario. L'80% della popolazione mondiale l'ha vista almeno una volta. Nel 95 da Baywatch è nato lo spin off, Baywatch Night, di tipo thriller fantascientifico. È di pochi mesi fa invece la notizia che in lavorazione anche un film si guarda a spiagge di Santa Monica e chissà se parteciperanno nei cast anche David Hasselhoff e Pamela Anderson. Rimaniamo negli anni 90 con Willy il principe di Bel Air e l'indimenticabile interpretazione del giovanissimo Will Smith. Guarda chi c'è Willy? Hey! Chi è? La serie, che ha vinto 3 Imagine Awards, è diventata un simbolo della cultura afroamericana ed è stata trasmessa negli Stati Uniti proprio quando il rap e l'hip hop avevano sdoganato i miti black in America e nel resto del mondo. Lo stesso Will Smith all'epoca era un rapper di successo e nel 93 si è anche aggiudicato il disco d'oro per Cold Red. È incredibile, sei davvero cresciuto. Eh, siamo cresciuti tutti eh! Di cose curiose nel mondo dello spettacolo ce ne sono veramente tantissime. Che ne so, sapevate tutti per esempio che l'attrice Roxy Rocker dei Jefferson era la mamma di Lenny Kravitz? O che Tom Selleck pur di partecipare a Magnum P.I. ha detto no Steven Spielberg per recitare la parte di Indiana Jones? O che ne so, Andy Warhol ha partecipato a una puntata di Lovebot? Beh cose di questo tipo ne trovate a bizzeffe sul sito di foxretro.it oppure se siete appassionati cercatele voi e fatecele sapere. Vi aspetto la prossima settimana!